fai finta che stai andando in montagna e hai trovato uno stacolo, dove devi fare? come è questo? mi ha scassato tutto quello stacolo hai visto come ha spostato un quintale mezzo di peso? con scioltezza no, guarda, appena dentro di qua la moto è andata di là, un quintale mezzo di peso fai un bastardo lo fa per distrarti metti fino a parte che sei già lì prendiamolo, non ti preoccupare devi passare sul mio piede se c'è il fisico bravo perchè l'hai toccato? perchè sei rascinato sono tanto appena schiacciato a ripartire non ci vuole 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 ma hai pagato non ci vuole non ci vuole non ci vuole adesso quando arriva qua quello mi va a battere il bosco dai continuo tu hai detto prima giù di qua a spegnere un po' troppo tempo e si spaventare tre sassi giù di qua giù di qua giù di qua qua giri risali di qua e fai i due tronchi questi sono bastardi questi qua sono strunti attraveno sono strunti è che attraveno sono strunti non ci vuole ho non ci vuole ci vuole ci sono ma che non ci vuole non ci vuole non ci vuole se vuole non ci vuole Asi, sei bravo Dai! puntala qui che è più accompagnato è un po' più accompagnato e chi ci vuole bravo che marcia fai Michele? è un po' più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.